Luigi Cuppone, sono bastati pochi minuti in quella prima amichevole con la Dana per renderti già una sorta di beniamino dei tifosi del Pescara che apprezzano il tuo stile di gioco. Sì, io sono un giocatore che ci mette tanta voglia, tanta passione, tanta corso, tanta volontà per la squadra. Quindi mi sento un giocatore che vuole aiutare la squadra sia in fase difensiva che in fase offensiva. Poi per i tifosi quando un attaccante fa gol è sempre un buon auspicio. Non solo i gol che sono fondamentali ma forse apprezzano anche l'atteggiamento, il tuo modo di attaccare gli spazi ma anche di pressare i difensori e avversari. Sì, diciamo che è quello che ci lavoro io durante la settimana è proprio su questo, sulla voglia di metterci in campo su ogni palla, su ogni giocata. Quindi mi piace dare sempre il massimo. Senti, sei stato già vicino all'Abruzzo perché ricordiamo che lo scorso mese di gennaio eri lì per arrivare a Teramo. Sì, sì, c'è stata la possibilità di andare a Teramo. L'anno scorso scendendo di categoria avevo tante possibilità. Poi si era creata l'occasione per andare a Potenza, anche una squadra che non meritava le posizioni che c'erano. Infatti abbiamo fatto un buonissimo risultato ottenendo la salvezza. Il girone C è quello che conosci perché lo hai fatto col Potenza, lo hai fatto con la Casertana. Che girone è e se c'è differenza tra fare il C e il B? Il girone B non l'ho fatto, però so che nel girone C ci sono quasi tutte piazze importanti dove ci sono dei bei balconi scenici da giocare. Quindi per un giocatore è sempre bello, ci hai tanti stimoli. Quindi secondo me come girone il C è il più bello. Come è più bello per me è anche un pochino più difficile perché giocare in piazze importanti ti porta ad avere più pressioni. Quindi per me, per come la vedo io, giocare con tante squadre importanti è sempre bello. La B l'hai accarezzata col Cittadella, ora ci vuoi tornare col Pescara. Sì, è uno dei miei obiettivi che mi sono posto quest'anno di tornare in Serie B con la Maglia del Pescara perché è una squadra che merita di ritornare in quella categoria, che è una categoria dove merita di stare. In allenamento, per chiudere, chi vince il derby del Salento tra te e in grosso? Vinco io e un po' lui, diciamo così.